Nell'ambito della promozione della cultura statistica riveste particolare importanza il progetto Emos, European Master in Official Statistics, corso di laurea volto a creare competenze in termini di produzione e di analisi delle statistiche ufficiali, riconosciuto a livello europeo. E' svolto dal 2017 in collaborazione con l'Università di Bergamo. Punti di forza sono stati i seminari in lingua inglese e soprattutto i tirocini. Questi offrono al punto di vista degli studenti la possibilità di vedere dal di dentro temi di frontiera e la statistica ufficiale e all'istituto di usufruire di contributi innovativi in termini di produzione e analisi dati da parte di studenti che hanno buone competenze statistico-economiche. Fino adesso sono stati effettuati i tirocini in termini di indicatori di stili di vita e di salute, di strumenti di promozione della cultura statistica e di analisi dei dati delle statistiche sulle imprese a livello territoriale.